Buonasera, sono Laura Pepe e sono autrice del libro La voce delle sirene, i greci e l'arte della persuasione. Mi è appena stato riconosciuto il premio alla divulgazione scientifica nella sezione di scienze giuridiche, economiche e sociali. Sono molto contenta di questo riconoscimento perché io insegno all'università e non ho mai ritenuta la mia funzione di docente universitario conclusa all'interno dell'università. La divulgazione al di fuori del mondo universitario, cercando appunto di veramente rendere noti al pubblico ampio i prodotti della propria ricerca, è una cosa fondamentale. Una missione, la cosiddetta appunto terza missione a cui credo che nessun docente debba rinunciare. Grazie. Grazie.